Ha avuto luogo presso la cittadella regionale a Catanzaro la conferenza stampa di Spirito Mediterraneo, la prima rassegna regionale sul mondo degli amari, dei distillati e degli spirits, prevista a Fuscaldo, bellissimo borgo sul Tirreno Cosentino, i prossimi 28 e 29 giugno. 23 aziende hanno già aderito con importanti ulteriori inserimenti ed ospiti straordinari. L'evento è organizzato dal comune di Fuscaldo, l'associazione Volare e le Meraviglie del Borgo. Spirito Mediterraneo, il titolo della Carmesse, ha il supporto importante della regione Calabria, di Arsac, della Proloco, dell'Umpli, dell'Università Mediterranea, del Fatto in Calabria, di Terre da Mare e delle CSV di Cosenza. Piena adesione e soddisfazione, infatti, è stata espressa dal primo cittadino, Giacomo Midea, dal consigliere delegato Carmine Scrivano, dal direttore di Volare, Maria Brunella Stancato, e poi da Arsac con il commissario Fulvia Caligiuri e dell'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo. Una rassegna molto importante, la prima rassegna che riguarda gli amari, i distillati e gli spirits, che sono comuni a tutti i paesi del Mediterraneo. La Calabria, a pieno titolo, è un paese che si affaccia sul Mediterraneo, che ha delle eccellenze che devono essere valorizzate e devono essere portate all'attenzione dell'opinione pubblica a 360 gradi. Fuscaldo ha l'onore di ospitare questa vetrina, che sarà una vetrina per noi come territorio e per i nostri prodotti e soprattutto per le nostre eccellenze. Abituiamoci a considerare la Calabria anche terra di primati in positivo. La Calabria è terra di primati nel settore degli amari, perché oltre il 50% del mercato nazionale degli amari è detenuto dalla Calabria grazie ad un'azienda calabrese in particolare, l'azienda CAFO, quella della mano del capo per intenderci, che ha anche ispirato tantissime altre aziende che hanno seguito questo grande esempio e che quindi costituiscono una fetta importante del mercato nazionale. Ed è chiaro che tutto questo settore, che è un settore che peraltro si collega anche al settore primario, al settore agricolo, quello delle erbe officinali e delle piante officinali e quindi alla nostra biodiversità, va valorizzato e viene valorizzato da questa iniziativa interessante del Comune di Fuscaldo, che è un'iniziativa che spero possa avere seguito e che noi sosteniamo con determinazione. È un mix di elementi che insomma rende attrattiva anche questo incontro. Usciamo dal Vinitali, dove c'è stata proprio una parte dedicata agli spiriti e soprattutto dove si vede effettivamente quale sia il connubio vincente con la nostra biodiversità insuperabile non solo in Italia ma in tutta Europa. Quindi insomma mi auguro che questi incontri, queste attività, queste manifestazioni e questi momenti di dialogo servano a far capire che abbiamo tante strade da percorrere. Una è questa, insomma abbiamo degli esempi lungimiranti in Calabria, partendo da quello insomma possiamo creare una giusta diversificazione anche per tante altre aziende.